Ciao a tutti e bentornati su Best Cinema TV. Io sono Emma e il film che vi presento oggi è The Loggi. Un horror thriller che invadrà il confine tra follie e morte nello spazio astratto di un'abitazione. Il film uscirà nelle sale il 16 gennaio e in attesa di poterlo andare a vedere, ecco il film. Scusate. Scusate. Cosa? Si tratta di Grace. Si sono suicidati tutti tranne lei. Cosa succede? Non c'è corrente. Dove sono le mie cose? Non è possibile. Che c'è? Ho sentito qualcosa. Chi c'è? Siete stati voi? Non abbiamo fatto niente. Io me ne vado. Che stai dicendo? Guarda fuori, siamo in trappola. È tutto ok. Credetemi. Non c'è niente di cui aver paura. Questo era il trailer. Scrivete nei commenti se avete intenzione di andarlo a vedere e iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sulle ultime uscite del cinema. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Grazie a tutti.